Il miracolo che ha portato St. Joseph Marello all'altre come canonizzato per un sainte era un miracolo che ha portato, un doppio miracolo, di cura di due bambini che stavano morti. Ecco, io interpreto questo miracolo, questo duplice miracolo, come la ultima lettera scritta dal nostro fondatore. Allora, tre sono, come ho detto prima, i punti importanti. Primo, San Giuseppe Marello ha scelto un piccolo paese disperso sulle Ande del Perù. Il primo punto è questo, San Giuseppe Marello, in order to perform this miracle, ha scelto un paese, un paese unknown, sulle Andes Mountains di Perù, dove vivono gli Indio Skechua, dove gli Indio Skechua vivono. Questo paese non esiste nelle carte geografiche. Noi ci chiediamo, perché San Giuseppe Marello ha scelto questo piccolo paesetto? Noi ci chiediamo, perché San Giuseppe Marello ha scelto questo unknown place per performare questo miracolo? Se lui avessi scelto una città, il suo nome sarebbe più grande, più famoso. Se lui avessi scelto una città, sarebbe più famoso. A presto.